Quando a Italo Calvino venne data l'opportunità di lavorare con i classici, uno dei primi libri che riconsegnò alle stampe fu proprio Fosca. Perché Fosca? In primo luogo perché Fosca è un libro centrale per il panorama europeo. Si parla di una delle più importanti storie d'amore della narrativa italiana. È un romanzo che mette al centro per la prima volta la componente psicologica dell'amore. Tarchetti in questo romanzo va a vivisezionare l'amore, studiandone le più svariate sfaccettature. L'importanza di questo classico però è appunto il suo fare da spartiacque. Abbiamo all'interno di questo romanzo un protagonista che si innamora di due donne, Clara e Fosca. Clara è sinonimo di chiaro diciamo, mentre Fosca richiama l'oscuro. Ed è proprio in Fosca che troviamo l'archetipo del macabro e del dark, dell'orrorifico che aveva sedotto in passato autori come Poe, Baudelaire e i simbolisti francesi. Perché dunque è innovativo Fosca? Tarchetti prende in prestito dai simbolisti quell'archetipo e lo trasferisce all'interno di un romanzo il cui protagonista vuole assaporare la vita morso dopo morso, vuole fare sua ogni emozione. Questo ha un richiamo incredibile con quello che sarà poi il decadentismo. Quindi se vogliamo questo romanzo fa da spartiacque tra quello che era stato e ciò che sarebbe stato il mondo editoriale. Da un lato abbiamo appunto il simbolismo e tutta la fascia bohemienne francese e dall'altra abbiamo il futuro, ovvero il decadentismo di Gabriele D'Annunzio. Consiglio Fosca perché è uno dei classici più importanti della letteratura italiana. È forse il romanzo più famoso di Tarchetti ed è un romanzo che oltre ad essere d'amore ha in sé un atto d'amore. Perché Tarchetti è morto prima di concluderlo. Stava lavorando al penultimo capitolo quando morì. Quindi venne preso in mano questo manoscritto da Farina e con estremo amore venne concluso e dato alle stampe. Abbiamo ripubblicato fosca in una versione pop, nel senso di popolare, perché leggendo Fosca i più giovani potranno ricongiungersi con quell'italiano desueto dei classici. È un romanzo estremamente rock and roll e quindi credo che possa piacere un po' a tutti. Perché da un lato abbiamo la parte sensuale dell'amore e dall'altra quella grottesca. Sofferenza e piacere. Amare certe volte è un atto di ribellione e lo è per il protagonista di questo libro anche. Tarchetti è un autore immenso. L'importanza della scapigliatura in Italia è relativa al periodo storico in cui si è sviluppata, mentre Tarchetti appunto è un artista ponte e per questo possiamo tranquillamente definirlo eterno. Consiglio questo libro con il pensiero di Farina, ovvero Farina sosteneva che i romanzi dovessero educare il cuore delle persone e io credo che Fosca, per quanto dark possa essere, un romanzo d'amore, potrebbe educare molti cuori e i classici dovrebbero fare questo, educare la nostra memoria empatica. Trovate la nostra versione di Fosca su Amazon. Un saluto a tutti dai classici dell'infernale.